Il Lecce perde a Foggia 2-1 e lascia alla squadra di De Zerbi il posto nella finalissima dei play-off contro il Pisa. I giallorossi escono di scena a testa alta, ma i satanelli passano con pieno merito per qualità di gioco, carattere e determinazione. Abbiamo perso contro una squadra superiore, il calcio è così, capita che un altro sia più bravo e quindi onore al merito. I nostri calciatori hanno fatto il massimo che potevano, ma hanno sprecato troppe occasioni in area di rigore e con troppi errori in fase di impostazione, rendendo vane le speranze di rimonta. Nel primo tempo, come nella gara d'andata, il Lecce fatica a trovare le giuste trame di gioco per impensierire gli avversari. Nei minuti iniziali della gara il Foggia cerca subito di prendere il comando del gioco. La squadra rossonera si rende pericolosa con due punizioni. Prima con Sarno, Moscardelli si trasforma in difensore e riesce a fermare il calciatore da uno prima che possa tirare in porta. Qualche minuto dopo, Perucchini anticipa Iemmello prima che il bomber possa colpire di testa. Al diciannovesimo, la prima palla goal del match con l'ex di Chiara, che dopo un affondo sulla fascia sinistra, conclude con un diagonale diviato in angolo da un prodigioso intervento di Perucchini. Al venticinquesimo minuto ancora rossoneri in avanti con Sarno, il cui tiro a giro va di poco alto sull'incrocio dei pali. Due minuti dopo ci prova Moscardelli con un calcio di punizione che fa venire i brividi ai rossoneri. Il suo sinistro sfiora il palo. Al trentacinquesimo, clamorosa occasione per Dumbià, che spara alto al volo da ottima posizione. Si chiude così la prima frazione di gioco con un Foggia nettamente superiore. Nella ripresa, al quinto minuto, arriva la mazzata tremenda. Riverola inventa un gol da Cineteca e sblocca il match. Lo spagnolo riceve palla sulla sinistra e, accentrandosi, lascia partire un destro da distanza siderale, che si insacca diretto sotto l'incrocio dei pali. Un minuto più tardi, clamorosa palla goal sul destro di Moscardelli. Ma il bomber giallorosso, servito da Surraco, si vede respingere il tentativo a botta sicura dal portiere Narciso. Al nono minuto, ancora Moscardelli spreca il gol del pareggio, con un colpo di testa che finisce fuori. Al quarto d'ora, Narciso è costretto a deviare in angolo il tentativo di pallonetto da metà campo, ancora ad opera di un Moscardelli che lotta in campo come un leone. Ma al diciannovesimo, il Foggia realizza la rete del 2-0, che di fatto chiude la partita. Traversone di Chiricò e Sarno insacca in rete, alle spalle di Perrucchini. Lo stesso Sarno esulta in maniera eccessiva, provocando la reazione della panchina del Lecce. A farne le spese sono il tecnico Piero Braglia e il team manager Claudio Vino, che vengono allontanati dal campo. A questo punto servirebbe un miracolo per i giallorossi. Al ventisettesimo, Moscardelli lancia in profondità per Dumbià, che coglie in pieno la traversa. Sulla palla si avventa di testa Caturano, che deposita in rete, dimezzando lo svantaggio. Al trentesimo, Foggia vicino alla terza rete. Tiro cross dell'ex di Chiara, sulla sfera piomba Iemmello, inscivolata, che a Perrucchini battuto spedisce alto. I Salentini cercano disperatamente il pareggio, ma non sono in grado di rendersi pericolosi con il Foggia, che controlla agevolmente la partita e cerca di ripartire in contropiede. Finisce 2-1 per il Foggia, che giocherà la finale contro il Pisa. Per il Lecce cala il sipario su una stagione che a un certo punto ha fatto sognare la tifoseria giallorossa. Invece, per la quinta stagione consecutiva, sarà ancora Lega Pro.